Il cadavere di una donna ritrovato domenica pomeriggio nel lago non ha ancora un nome. E così la polizia diffonde alcuni dettagli degli effetti personali ritrovati sul corpo nella speranza che qualcuno possa fornire elementi utili al riconoscimento. Il ritrovamento, come detto, risale a due giorni fa. Il corpo è stato ripescato dalle acque del lago a Como in Viale Puecher, nei pressi dello Yacht Club. Si tratta del cadavere di una donna di etnia europea, di età stimabile tra i 65 e i 70 anni, con puratura media, carnagione chiara, capelli corti di colore castano, occhi marroni senza segni particolari evidenti. Indossava una maglia di cotone grigio con inserto in pizzo bianco sulla scollatura, una sciarpa di cotone traforato beige, un giubbino in nylon beige, un paio di pantaloni della tuta grigi, scarpe di colore beige e alcuni gioielli al collo e ai polsi, tra i quali un braccialetto con il nome Germana. Da un primo esame esterno sul corpo non sono stati rilevati segni di violenze o costrizioni e lo stato di conservazione indirizza verso una permanenza in acqua di poche ore. Gli accertamenti svolti, anche tramite il confronto con la banca a ricerca scomparsi, non hanno ancora permesso di arrivare a una corretta identificazione. Al momento non si esclude alcuna ipotesi dall'incidente al tragico gesto volontario. Chiunque vedendo queste immagini possa fornire elementi utili al riconoscimento è invitato a rivolgersi alla polizia di Como.